Noi ci occupiamo sul territorio ormai da tempo, da quasi da oltre un anno, di tematiche così di spessore. Abbiamo affrontato vari argomenti nel tempo, l'immigrazione che adesso risulta essere anche un tema scottante e però abbiamo scelto di affrontare il tema della start-up e dell'innovazione perché crediamo che possa essere di grande interesse soprattutto per i giovani. Crediamo nella imprenditorialità, soprattutto vogliamo fornire gli strumenti e quindi garantire la più bassa informazione perché ognuno quando magari ha un'idea un po' magari si lascia intimorire dall'aspetto burocratico che a volte può essere molto farraginoso e quindi noi vogliamo stimolare i giovani ad informarsi prima di tutto prima di dire che magari la loro idea non è realizzabile. Ci siamo rivolti a Smart Gioiosa perché abbiamo avuto modo di confrontarci con loro, abbiamo instaurato un buon legame come siamo soliti fare sempre con i nostri interlocutori e in loro abbiamo rivisto comunque delle figure meritevoli e qualificate. Quando l'associazione 360 Lab ci ha contattato chiedendoci di organizzare un convegno su una tematica come quella delle start-up e l'innovazione ci siamo sentiti innanzitutto onorati e poi abbiamo immediatamente colto questa opportunità perché riteniamo che la tematica oltre che attuale è estremamente importante per il territorio per cui giovedì ci incontreremo per affrontare questo tema insieme a dei relatori di tutto rispetto e parleremo sicuramente dei finanziamenti legati alle start-up innovative e alle opportunità offerte giovani con la dottoressa Daniela Totaro di Sistemia Creative Business Solution. Parleremo anche di una tematica come il crowdfunding, qualcosa che è estremamente attuale è ampiamente diffuso negli Stati Uniti e che si sta diffondendo adesso anche in Italia e a parlarcene sarà il dottore Maurizio Marellino che è anche il direttore generale di una delle piattaforme di crowdfunding italiane e per finire daremo spazio anche al marketing con l'ingegnere Verdiana Granata che appunto ci parlerà dell'approccio del marketing al tema delle start-up. Noi riteniamo che sia una tematica estremamente importante da affrontare nel territorio e quindi perfettamente in linea con quello che abbiamo fatto finora come Smart Gioiosa. Tra l'altro è interessante perché dopo gli interventi ci sarà una fase di dibattito e di condivisione di idee. Questa espressione ci è piaciuta parecchio perché rispecchia perfettamente quello che è il nostro approccio nei confronti dell'innovazione dei giovani e della comunità dei Nebrodi. La tematica che abbiamo affrontato ha suscitato anche l'interesse da parte di GDG Nebrodi, Google Developer Group, che ha deciso di diventare il nostro media partner. Per cui non mi resta che dare appuntamento a tutti a giovedì alle ore 16, al Museo Idea, non è casuale, la location di San Marco d'Allunzio. Parleremo di start-up e innovazione e cercheremo di attuare un approccio estremamente pratico, operativo, perché quello che si vuole è non fornire semplici informazioni, ma strumenti che possano portare allo sviluppo del territorio. Vi aspettiamo!